Campionato europeo di calcio. Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Vediamo insieme la situazione dei gironi. Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita. Vediamo in grafica come sono schierate in campo le squadre. Sfira che potrebbe essere decisiva per proseguire il cammino in questa competizione. Hanno l'occasione per chiudere i conti, per staccare il pass per la fase di eliminazione diretta, ma devono vincere. Si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Piero Gepardo e Levi Adani prontissimi per il commento. È la loro terza partita di questo europeo. Ultimi 90 minuti della fase a gironi. Duello tutto da seguire tra Croazia e Italia. Una vittoria oggi permetterebbe loro di proseguire l'avventura in questo europeo e approdare agli ottavi. Una motivazione in più sicuramente è per scendere in campo e darà il massimo per centrare l'obiettivo di qualificazione. Grande recupero difensivo. Situazione complicata. Croazia che manda in campo questa formazione. Luca Modric insieme a Brozovic nella zona centrale del campo. Attacco con Kramaric chiamato a fare reparto da solo. Con l'aiuto della grafica vediamo gli azzurri che cominciano a questo match. Cingio Donnarumma tra i pali. Marella insieme a Giorgini al centrocampo. È un'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Formazione ospite che ha la possibilità oggi di centrare la qualificazione aritmetica alla prossima fase. Tre punti li separano dalla qualificazione alla fase successiva. L'obiettivo ampiamente è all'ora portata per quanto hanno fatto vedere nelle precedenti giornate. Ed è anche uno stimolo in più per scendere in campo oggi e dare tutto. Baragna e mezzi. Barella. Attento il portiere, non è finita. Ci sono metri per andare. C'è il tiro. Ha sferato un gran gol qui. Palla prima sulla traversa e poi sul fondo. Non ha nulla da rinforgararsi. Ha calciato forte e preciso. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Occhio a questo pallone filtrante. Si alza la bandierina. È oltre l'ultimo difensore. Tutto fermo. Ha portato troppo palla dando la difesa il tempo per salire e attuare il fuorigioco. Hanno buttato via una grande chance qui in Lele. Sì, Pierre. Si è liberata bene ma al momento di concludere la rete non è riuscita a trovare lo specchio. Peccato perché la potenza c'era. Palla messa in mezzo da Modric. E c'è il gol di Kramaric. Rivediamo il corner dal quale scatturito il gol. Eccolo. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Possono pareggiare. E c'è il gol. Che reazione. Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Un gol questo che potrebbe cambiare il volto alla partita nella ripresa. Perché questo pareggio giunto al tramonto della prima frazione può lasciare anche degli strasciti sull'equilibrio del match. Si chiude così la prima frazione. Ha giocato un buon primo tempo. Ha toccato molti palloni. Può crescere ancora nella ripresa. Ha offerto un contributo importante alla causa firmando il gol del pareggio con cui si sono chiusi i primi 45 minuti. E sicuramente tra i più in forma dei suoi. Prima dell'inizio del secondo tempo vediamo le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Secondo tempo che è cominciato. Risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45. Grande equilibrio fin qui in campo. Perisic. Kovacic. Possono passare in vantaggio. Ottima la parata qui. Modric. Il dato sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora evidenzia il dominio della squadra di casa. Il risultato è bugiardo per questo. Palla buona, non può sprecarla. Attento il portiere, non è finita. La gira su Scabacca. Conclusione intercettata bene dal portiere. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Occhio al corner. Colpo di testa apprezzabile nell'intenzione, meno della riuscita. Occhio perché c'è un buon recupero. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è la rete. Passare in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte. Dovranno farselo bastare. E riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto. Se vogliono ciuffare almeno il pari. Gol che viene mostrato da un'altra angolazione. La loro insistenza alla fine ha pagato. E le occasioni cominciarono ad essere davvero tante. Può scegliere chi servire. Ci provano fino all'ultimo. Vogliono il pari quando manca davvero poco. Attenzione a Perisic. Cross verso il centro. Per l'arbitro è calcio di rigore. Non ci sono dubbi. Occasione da non fallire. Può essere il gol del pari. Palla in rete. Si conferma infallibile dal dischetto. Penalty trasformato con grande sicurezza. È come ci mostra Replay. Ci vuole coraggio per tentare una soluzione del genere dal dischetto. Evidentemente deve aver visto il portiere muoversi in anticipo e ha deciso di beffarlo con questo cucchiaio. 2-2. Bella partita. Parità assoluta. Prestazione da incorniciare per Niccolò Barella per l'ennesima volta. Ottimo contributo. Madre mia come brucia questo pareggio. Ha fatto impazzire la difesa e i gol fatti ne sono la testimonianza. Eppure non è bastato per strappare la vittoria. È così. Lo sappiamo. Il calcio Pierre può essere davvero ingiusto a volte. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Andiamo a vedere insieme i dati della partita. Questa è la classifica del girone. Questi sono i risultati delle partite e la classifica di tutti i gironi. Vediamo insieme chi sono i migliori marcatori. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Se hai guardato e ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.